Sì, con te, la spesa che vale Giovedì 16 marzo, nel cuore di San Benedetto del Tronto, in Via Roma 105, ha inaugurato il nuovo supermercato Sì, con te, della C'è di Marche, brillante realtà marchigiana nel settore della grande distribuzione. Buongiorno a tutti, siamo veramente orgogliosi e con grande piacere che siamo oggi qui a San Benedetto per inaugurare questo nostro punto vendita proprio al centro della città. Permettetemi di ringraziare tutte le autorità che sono qui presenti, il sindaco, siamo l'assessore alle attività produttive per l'insediamento di questa nostra insegna all'interno della città. Ma un ringraziamento, un benvenuto a tutti i futuri clienti di questo nostro supermercato. Potrete trovare all'interno un socio, un socio della C'è di Marche, che per voi sarà un punto di riferimento per tutti i consumatori, ma anche per tutte quelle persone che si trovano qui a fare la spesa, affinché possa soddisfare le proprie richieste e le proprie esigenze. Si tratta del negozio di sempre, ispirato dalla tradizione locale del mangiar bene, ma con delle novità stilistiche e tecnologiche nel contenuto e nei servizi. Il supermercato si sviluppa in un contesto moderno, pensato per un cliente consapevole ed attento all'ambiente, con nuove tecnologie per l'illuminazione ed il risparmio energetico. Il tutto avvolto in un'atmosfera calda che colora i reparti, risaltando l'offerta alimentare del fresco per una spesa di qualità. Come ho detto anche in apertura, era tanto che cercavamo di aprire in questa stupenda città, in questa stupenda piazza. Più qui abbiamo voluto offrire qualcosa in più al consumatore, abbiamo sperimentato questo nuovo format, caldo e avvolgente, e oltre ad offrire dei servizi innovativi, dà anche la possibilità al consumatore di vivere un'esperienza positiva all'interno del punto vendita. Poi sicuramente per la sviluppo ed occupazione abbiamo garantito sia l'occupazione precedente sia inserito nuove risorse. Oltre al tradizionale assortimento, il punto vendita si contè e dedica ampio spazio a specialità del territorio, prodotti a chilometro zero, integrati ai piatti pronti a cuocere e cotti, preparati internamente nei reparti freschi. Un dinamico settore ortofrutta invita il cliente a godere dei profumi intensi della natura, dove l'assortimento è assicurato di prodotti a chilometro zero, l'area rifrigerata per il fogliame, la quarta gamma e il pronto a cuocere. Qualche passo in avanti e si incontra il settore salutistico, un ricco angolo di qualità e benessere. E poi il settore panetteria, che offre una vasta gamma di prodotti locali, completata dalla doratura realizzata nel laboratorio. E subito dopo un importante banco gastronomia, che associa alla competenza professionale degli addetti l'ampiezza assortimentale dei prodotti nazionali e delle eccellenze DOP e IGP del nostro territorio. Un negozio storico della città di San Benedetto, dove abbiamo cercato di rispettare quelle che erano le tradizioni della città, abbiamo avuto un'ottima accoglienza da parte dell'amministrazione, che ci hanno indicato anche fornitori, prodotti del territorio, ricette, perché abbiamo anche cominciato a collaborare con l'Istituto Alberghiero Boscemi, che ringrazio tantissimo. Noi stiamo dando un servizio di prodotto di qualità, con soprattutto delle persone professionalizzate di qualità. E questo è un giusto connubio e ci sta dando delle belle soddisfazioni. A San Benedetto del Tronto, città in cui la pesca rappresenta un'arte, non poteva mancare il banco pescheria, che risalta per la varietà di pescato locale, la professionalità del personale nel servizio di pulitura del pesce, la preparazione di piatti pronti a cuocere, realizzati internamente ogni giorno e nella proposta di prodotti già pronti, come la classica frittura di pesce. A chiudere il comparto dei freschi, l'importante settore macelleria ha assistito, con decine di tagli anatomici, piatti pronti a cuocere preparati direttamente dagli operatori della macelleria, con un ricettario esclusivo. Noi dopo l'esperienza di Grotta Mare abbiamo aperto questo nuovo punto vendita, che mi dà molto orgoglio. In pratica siamo andati nel mercato in un altro paese molto importante, San Benedetto del Tronto, dove le abitudini dei consumatori sono ben definite, c'è una qualità della cucina molto elevata, quindi cerchiamo di rispondere alle esigenze dei consumatori con un prodotto, anche noi nel supermercato, un prodotto elevato di qualità. La nuova struttura impiega 18 persone, in maggioranza residenti nel territorio di San Benedetto. Rilevante la quota dell'occupazione giovanile, molti dei nuovi assunti infatti non hanno ancora compiuto i 30 anni di età. Credo che la professionalità e l'entusiasmo di questo gruppo possa avere dei risultati importanti e li ringraziamo perché hanno voluto puntare su San Benedetto, evidentemente San Benedetto è nevralgicamente, strategicamente un punto importante per gli imprenditori e quindi l'amministrazione comunale non può che supportare queste iniziative. Particolare attenzione è stata riservata alla formazione del personale per affiancare i più giovani in un proficuo percorso di crescita professionale, volto a garantire al quartiere e a tutta la città un'esperienza di acquisto piacevolissima. In bocca al lupo a questa meravigliosa realtà Si Con Te, che non mancherà di soddisfare i gusti dei cittadini san benedettesi. Si Con Te, la spesa che vale!